Intanto vorremmo capire se Matteo Renzi ha la maggioranza per votare la sua legge elettorale che darà potere soltanto al suo partito cancellando le opposizioni e riducendole a un puro complemento estetico. Noi pensiamo che la legge elettorale vada cambiata in due direzioni. Da un lato la rappresentanza, non è possibile che un partito prenda tutto e dall'altro la possibilità per i cittadini di scegliere i propri eletti. Altrimenti rischiamo di passare da una democrazia plurale a una democrazia di nominati.